Io vi dico veramente la mia gioia profonda di essere qui al Festival di Filosofia e su questa piazza. Memore che lo scorso anno non ho potuto essere tra di voi perché ero in ospedale ed ero in condizioni gravissime. Quindi l'essere ritornato alla pienezza della vita quando non lo speravo più ed essere tornato anche in mezzo a voi è per me di grande gioia. Mi rallegro. Non è facile parlare dello Spirito anche all'interno della tradizione cristiana che che peraltro lo ha meditato e come tema l'ha trasmesso di generazione in generazione. Tant'è vero che il teologo francese Yves Congar, nel 1963, all'inizio del Concilio Vaticano di cui era stato eletto esperto, poteva dire letteralmente che lo Spirito è il grande sconosciuto per il cristianesimo occidentale, soprattutto cattolico. Parole testuale sue. Eppure lo Spirito, come attestano le scritture, pervade tutto l'universo, anima tutto il cosmo, abita ogni essere umano. Ripeto, abita ogni essere umano. ed è dunque presente con efficacia in tutta la storia, in tutte le culture, in tutti i popoli di tutti i tempi. I cattolici, abituati soprattutto, come recita il loro catechismo, a ricevere lo Spirito, hanno sempre pensato che lo Spirito sia un dono fatto ai cristiani e che gli altri uomini ne siano totalmente sprovvisti. Ma questo invece no. Il messaggio biblico dice ben altra cosa. Con che cosa si è voluto disegnare lo Spirito a partire dalla Bibbia? Andiamo alle fonti. in ebraico c'è un termine, Ruach. Vi faccio notare il suono di questo termine, che parte in una maniera estremamente forte, rutilante e arriva ad essere un sibilo, Ruach. Termine che abitualmente abbiamo tradotto in greco con Pneuma e in latino con Spiritus, da cui l'italiano Spirito. e il termine Ruach indica il vento, indica il soffio, indica il respiro, indica una forza in movimento della quale facciamo l'esperienza, come quando sentiamo il vento. che passa sul nostro volto, ma che non riusciamo a trattenere, non sta nella nostra presa e soprattutto è qualcosa che non vediamo. Il vento è questo, il soffio è questo. Una forza che ci fa sentire, che a volte può addirittura dominarci, ma che normalmente è come una dolce forza che ci spinge. ci spinge, ci spinge a delle scelte, ci spinge a fare un discernimento, ci spinge a combattere la morte e ci spingere a cercare la vita, ad essere creatori, artefici di bellezza, non distruttori. e diffusori di bellezza. la Ruach, secondo le scritture, è ciò che dà unità a tutti gli esseri umani e le differenzia dagli animali, nei quali c'è soltanto vita, c'è nefesh, vita. ma non c'è la Ruach. Cerchiamo dunque di ascoltare con attenzione messaggio biblico, ma anche la sapienza umana antica. innanzitutto, la Ruach appare della Bibbia e i cristiani non se ne rendono neanche conto, fin dalla prima pagina, anzi dal primo versetto. ve lo leggo in una mia traduzione che vuole essere più fedele all'ebraico e non risentire di traduzioni successive il greco o il latino operate dopo. quando Dio cominciò a creare il cielo e la terra, mentre la terra era vacqua e vuota, in ebraico tohu tohu vah vobu un'espressione onomatopeica era vacqua e vuota sentita sentite il suono in ebraico tohu vabu cioè c'era una materia caotica vuoto e abisso e le tenebre erano al di sopra dell'abisso e la Ruach di Dio aleggiava al di sopra delle acque straordinaria immagina del caos e del vuoto primordiale quando tutto è avvolto nella tenebra ma su tutta quella terra in forma e caotica tohu vabu aleggiava covava come dice la versione siriaca covava la Ruach alla stessa maniera con cui una chioccia cova la negliata dei pulcini straordinaria immagine che ci dice che su quella materia in forme lo spirito che aleggiava che covava preparava la generazione preparava la vita esattamente come la chioccia sulle uova certamente siamo di fronte a racconti che risentono di miti e letture di 4.000 5.000 anni fa e gli uomini da allora erano stupiti quando prendendo un uovo a una chioccia lo aprivano nel mezzo della cova e vedevano davvero quel disordine del tohu vabu avete mai aperto un uovo in formazione c'è misto sangue misto albume misto ancora del tuorlo e la formazione pianin pianino del pulcino e tutto per le energie il calore che trasmette la chioccia ecco l'immagine che ci vogliono dare è la stessa la creazione non è da nulla questa è la dottrina non la bibbia la creazione è messo ordine è vita che viene generata da una massa caotica vuota e informe per la forza di questo spirito di questa rua e per la parola di Dio il davar che arriva e dice luce e la luce fu parola e spirito all'opera hanno creato questo mondo come diceva il re Neodalione il grande padre del secondo secolo la parola e lo spirito sono le due braccia di Dio con cui Dio ha creato il mondo ha fatto sì che dal caos si passi al cosmo tutto questo vedete è nato per opera della parola e dello spirito oltre il caso oltre la necessità c'è stato chi ha parlato e col suo soffio ha generato la vita d'altronde potete emettere la parola senza che un soffio la generi vedete l'unità profonda tra parola e spirito la parola è nient'altro il suono la voce dello spirito ecco perché questo mondo è opera della parola e dello spirito e lo spirito è presente in tutte le cose certo è presente soprattutto in tutta l'umanità e la Bibbia ci dice è presente come pneumaspermaticos secondo l'espressione dei padri come uno spirito a livello spermatico seme che si è diffuso ovunque di cui nessun essere umano estraneo ma neanche nessuna cultura lo spirito santo non sta solo nella chiesa cattolica non sta solo nelle chiese cristiane sta nella sapienza delle genti dell'Asia sta nelle varie vie di sapienza religiose o no che gli uomini hanno percorso sempre è presente è presente come seme è presente come portatore di vita perché il suo compito è essere portatore di vita o come dice il suo termine vivificatore certo la sua presenza nella storia non è così evidente ma non a caso noi umani per evocarlo siamo ricorsi ad immagini immagini efficaci lo spirito non ha un volto eventualmente acquista il volto dei diversi uomini che ha popolato la terra ogni volto d'uomo è il volto dello spirito ma lo spirito senza volto è evocato però da una serie di immagini noi abbiamo bisogno per parlarne ma vedrete sono tutte immagini che non lo definiscono in maniera precisa che non ci permettono di coglierlo pienamente l'immagine del vento l'abbiamo già detta chi può imbrigliarlo da dove viene il vento come recita il titolo del tema che mi è stato assegnato dove va? ma non solo il vento lo raffiguriamo anche col fuoco perché sentiamo che qualcosa che brucia che brucia nel nostro intimo una forza e così è dello spirito che brucia che non viene meno anche quando è sotto la cenere continua a conservare il fuoco ha soltanto bisogno di essere riattizzato per partire all'interno di un rovetra incandescente e ardente lo spirito è rappresentato sovente nella sua maestosa venuta dalla dolcezza del volo della colomba perché lo vorremmo come ospite che avviene con dolcezza che come la colomba non forza la sua presenza si fa sentire si avvicina si propone come ospite scende dolcemente sulla mano che gli tendiamo ma è anche acqua zempillante non è acqua di cisterna è acqua zempillante che dà la vita al deserto che disseta nella calura che pulisce ciò che è sporco che irriga ciò che è arido e perfino c'è un'immagine forse per noi più lontana perché non viviamo in quella fascia di arsura subtropicale che era le regioni bibliche e l'olio l'olio che come profumo veniva dato sulla pelle per far splendere i corpi per ringiovanire i corpi per ringiovanire la pelle e i corpi dei vecchi ecco lo Spirito Santo lo evochiamo così e a tal punto che la tradizione cristiana anche quando ha voluto che nello Spirito Santo ci fossero dei segni materiali è ricorso esattamente a quelli che io vi ho enumerato queste sono immagini ci dicono qualcosa certo non ci spiegano tutto ci indicano una presenza illusiva ma che ci può parlare e dire molto ma guardiamo innanzitutto il rapporto tra spirito e umanità noi umani quando osserviamo il cosmo comprendiamo che le cose non sono state buttate di per caso giusto apposte non sono disordinate c'è un ordine all'interno del cosmo ce lo dicono tutte le scienze lo stesso ordine che ritroviamo nei microcosmi c'è un filo conduttore che lega e collega dando una forma al cosmo non al touvebou primordiale e all'opera dicono un'energia potente che tutto sostiene come già cantavano i salmi quando dicono ve le ricordate almeno questi versetti del salvo 104 tu mandi la tua ruach il tuo spirito e le cose sono create tu mandi la tua ruach e rinnovi la faccia della terra tu ritiri il tuo spirito e ritornano tutti alla polvere questa forza è lo spirito vivificante che dà la vita che riempie la terra diceva già il libro della sapienza nel primo secolo avanti Cristo riempie la terra soffio incorruttibile in tutte le cose sempre il libro della sapienza è lo spirito che è in Dio come la parola di Dio è lo spirito che è il soffio tra il padre e il figlio è lo spirito che è relazione di energie e di amore è lo spirito che sente il bisogno di una estasis di un'uscita fuori un'uscita estatica e va verso la creazione spingendo verso l'alto in un'ascensione evolutiva positiva direbbe un Teilhard de Chardin questo visionario che la Chiesa ha condannato ma che pur converge con le scienze attuali è uno spirito che mantiene tutte le creature le unifica e le conduce a un processo di trasfigurazione in questo noi cattolici dovremmo costantemente permettetemi di dire di vergognarci di quanto soprattutto nel secondo millennio di cristianesimo noi non abbiamo tenuto conto di questa presenza dello spirito nel cosmo sulla terra nella creatura non abbiamo capito che noi viviamo in un mondo che è una comunione di creature che noi siamo nient'altro che co-creature con animali vegetali non abbiamo capito che siamo coinquilini e che dobbiamo il rispetto gli uni degli altri certo la nostra fede è diventata cosmica per precise ragioni l'eredità pagana greco-romana l'agnosi che si era spinta dalla Persia fino a noi e quindi la paura di idolatrare la natura e quindi abbiamo fatto della fede cristiana una fede a-cosmica in cui l'uomo è al centro di tutto e solo l'uomo isolato dalle creature non abbiamo imparato che ogni creatura ha una voce non abbiamo imparato che anche le pietre e i sassi in realtà hanno una parola da dire anche se noi non la percepiamo non abbiamo imparato che gli animali gemono insieme a noi in attesa anche loro di una salvezza che certo non esprimono nei nostri termini noi abbiamo dimenticato che veramente su questa terra noi uomini essere umani siamo responsabili siamo responsabili degli animali siamo responsabili dei vegetali siamo responsabili della terra che calpestiamo la terra non è responsabile di noi i vegetali non sono responsabili di noi gli animali non sono responsabili di noi umani ma noi di loro sì anche se noi non siamo al centro dell'universo e della vita c'è bisogno di una nuova cognizione della nostra presenza se vogliamo vivere in armonia se vogliamo vivere davvero in comunione c'è uno dei detti di Gesù apocrifi molto significativo ma non a caso tralasciato dalla tradizione dice Gesù dove devi cercarmi alza la pietra e mi troverai muovi un ramo e sentirai la mia presenza e un detto ancora recita lo spirito è silenzio nella pietra profumo in un fiore e grido nell'animale è parola nell'essere umano lo spirito lo spirito ma c'è anche uno spirito nella storia che per noi è lo spirito di profezia che ha avuto una grande manifestazione attraverso quelli che sono i profeti cioè profites colui che parla a nome di dal greco ma anche in ebraico il termine navi significa colui che parla a nome di e il profeta che parla a nome di Dio è sempre un uomo della ruach è un uomo dello spirito lo spirito scende su di lui si impossessa di lui lo spinge a parlare lo spinge a consegnare al popolo segni e messaggi urgenti Amos questo profeta del settimo secolo lo confessa non ero profeta non ero figlio di profeta ero un pastore e un raccoglitore di sicomori ma il Signore mi ha strappato di dietro il bestiame e mi ha detto va fai il profeta al mio popolo di Israele viene chiamato a fare il profeta e non vorrebbe dice sono ignorante un mandriano così come Geremia quando viene chiamato dice ma sono un ragazzo e Mosè che viene chiamato a fare il profeta davanti al Faraone dice chiami me proprio che sono malbuzziente persone che non avevano avuto nessun curriculum pedagogico a diventare profeta a diventare qualcuno ma a un certo punto lo spirito li vince li trascina in una vocazione che sarà una vocazione che li porterà a una vita disastrosa una vita a caro prezzo in cui dovranno dire una parola con franchezza ai re e ai governanti dovranno dire parole di condanna e di giudizio dovranno andare ad attaccare il tempio e dovranno andare ad accusare i sacerdoti di tradimento della loro vocazione e la loro fine sarà sempre una che il potere politico si mette d'accordo col potere dei sacerdoti e vengono sempre uccisi tutti i profeti leggete nella Bibbia questa è la loro sorte ma io vi dico non solo allora ancora adesso il profeta paga con la franchezza con la morte e con una morte violenta quando i poteri lo possono ciò che lui dice in verità e nel cristianesimo e nell'ebraismo non a caso religioni giudicate dei profeti da Elia il grande profeta del settimo secolo fino agli ultimi profeti Giovanni Battista e Gesù c'è questa catena di chi dice la verità contro l'ingiustizia contro l'oppressione dei poveri ma che sempre sempre denunciando il connubio tra potere religioso e potere politico finiscono per trovare la morte oltre che le persecuzioni è il profeta l'uomo dello spirito dominato dallo spirito di cui soprattutto Elia è il grande profeta andate ancora in Oriente che ha conservato questa tradizione in Grecia in Turchia in Bulgaria su ogni collina c'è una piccola cappelletta dedicata a Elia difensore delle vedove degli oppressi e dei poveri perché i poveri non hanno altro avvocato che lui ma questi profeti non pensate che siano solo nella Chiesa e che non sappiamo vederli anche nell'umanità e che sovente e soprattutto la Chiesa ha negato che ci siano profeti fuori e ci ha occultato gli occhi ma Gandhi non è stato forse un profeta fuori dalla Chiesa e Tal Stoi non è stato anche lui un profeta fuori dalla Chiesa e tanti altri che hanno dato la vita più anonimi, meno conosciuti ma che l'ha data per la libertà per la giustizia quelli sono profeti e ci sono e bisogna vederli vedete lo Spirito non sai da dove venga e dove vada non conosce i muri che innalzano le Chiese non conosce i confini che tirano eventualmente le politiche a un certo punto ci sono per opera dello Spirito che è in tutta l'umanità comprendete amici dove sta la libertà non tra i muri dei templi non tra i muri dei palazzi dove c'è il soffio dove c'è lo Spirito e l'Apostolo Paolo dice là dove c'è lo Spirito c'è la libertà voi, mi raccomando siate abitati dallo Spirito cercate di vivere dove c'è lo Spirito e conoscerete la libertà senza aver timore di nessun potere la libertà la eserciterete senza mendicarla infine forse il tema più difficile ma spero mi capirete lo Spirito lo Spirito come anche iscritto all'interno del titolo che mi è stato dato è uno Spirito di resurrezione per eccellenza la Ruach porta la vita dove regna la morte e giustamente nell'ebraismo il grande nemico della Ruach sappiatelo è la guerra è la guerra se c'è un'opposizione è quella tra lo Spirito e la guerra perché lo Spirito vuole la vita lo Spirito è il Spirito di resurrezione già gli ultimi profeti avevano fatto ricorso all'immagine della Ruach del Signore per indicare la gente portatore di vita sulle ossa morte di Israele vi ricordate per lo meno Ezechiele rapito dallo Spirito portato fuori dalla città santa di Gerusalemme assediata dai babilonesi per vedere una valle di ossa morte su cui il profeta chiama invoca lo Spirito il quale giunge come un vento giunge dai quattro angoli della terra e porta la vita là dove c'era la morte ridona la vita ridona energia dà vita piena ecco la speranza proclamata come finale della storia per tutta l'umanità la morte e lo Spirito si affrontano in un mirabile duello lo Spirito distrugge la morte e la morte è vinta per sempre e il Vangelo con la Ressurrezione di Gesù porta a compimento questa profezia precisando che lo Spirito vince la morte perché lo Spirito è equivalente di agape amore è il Nuovo Testamento che svela che il nome dello Spirito è agape è amore gratuito amore che non si deve mai meritare è amore di Dio che porta il nome di grazia questo è lo Spirito dell'amore Gesù avendo amato l'umanità questa terra fino all'estremo non poteva vedere il suo amore morire con lui per questo lui è morto dando la vita spendendo la vita ma è stato rialzato dallo Spirito Santo ed è stato rialzato per una vita piena in modo che Gesù trascinasse dietro a sé tutti quelli che muoiono lui che era il primogenito della creazione diventasse anche il primogenito dei morti passati alla vita la risurrezione riguarda tutti tutti gli uomini perché Cristo è risorto per tutti Giovanni ci dice che Gesù sulla croce ha effuso il suo Spirito sull'universo non l'ha effuso solo sulla Chiesa non l'ha effuso solo sui credenti non l'ha restituito semplicemente e puntualmente al Padre ma Giovanni dice è reclinato il Capito e fuse lo Spirito dalla croce su tutto l'universo questa speranza che l'uomo ha da quando si è eretto in piedi dodicimila anni fa guardando in avanti e alzando la fronte questa speranza che la morte non è l'unica parola non è l'ultima e che c'è speranza per una vita nuova gli uomini la custodiscono tutti credenti o non credenti cristiani o non cristiani religiosi o non religiosi è una speranza di una vita semmai osano sperare neanche i credenti ne sono certi osano sperare osano sperare audebus sperare anche con tanta fatica e in certi giorni neanche ci crediamo ma poi torna in noi questa speranza che la morte sarà vinta proprio da quello Spirito che è in noi e che ci dice che è possibile la vittoria dell'amore frutto del nostro Spirito sulla morte lo Spirito soffia dove vuole non sai da dove viene né dove va energia che va cercata innanzitutto nei nostri cuori secondo la Bibbia nella nostra coscienza secondo la nostra comprensione attuale è il respiro più profondo del nostro respiro è il fuoco che arde nelle profondità del nostro cuore è l'amore che ci abita è la vita che sentiamo più autentica della vita quotidiana che facciamo io non ho altre parole da dirvi se non queste però lo sento come un debito e ho la solo autorevolezza di 80 anni di vita in cui ho cercato di tener viva questa speranza io vi dico respirate lo Spirito non rattristate lo Spirito non offendete lo Spirito che è in voi seguite lo Spirito perché dove c'è lo Spirito c'è libertà sì, la vostra libertà nasca dal vostro Spirito grazie dell'ascolto grazie 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 per questa bellissima lezione accoglieremo alcune domande da parte del pubblico di chiedere la cortesia di alzarvi perché qui vediamo un po' dal palco un po' male la platea ecco c'è una mano alzata lì sulla destra grazie prego ecco c'è quel passo del Vangelo che dice che i peccati contro lo Spirito non verranno perdonati non l'ho mai ben capito questo passo ma guardi il linguaggio di Gesù ogni volta si nutre di semitismi e i semitismi sono sempre da un lato paradossale da un lato portati agli estremi ora capire cos'è il peccato contro lo Spirito Santo lo si deve capire dal contesto del Vangelo in cui Gesù lo dice e allora diventa molto chiaro se invece si astrae la frase dal contesto si iniziano elucubrazioni senza fine come è sovente avvenuto andando a cercare qual è il peccato che non perdona e soprattutto vedete quanti sono all'interno della chiesa degli spioni degli aguzzini che cercano il peccato altrui e vorrebbero sapere anche qual è il peccato non perdonato per sentire che loro comunque non l'hanno fatto si imbrigliano per quelle strade che sono strade perdute il contesto è semplice Gesù sta facendo del bene e dando la salute agli infermi e i farisei piuttosto di dire fa del bene dico dicono no non fa del bene ma lo fa perché satana opera in lui questo è il peccato contro lo Spirito Santo quando noi vediamo il bene fatto e lo imputiamo al demonio facile se uno non è credente fa il bene ma lo fa il demonio più difficile quando uno è credente fa il bene ma è il demonio che lo fa attraverso di lui ecco paradossalmente Gesù dice questo è un peccato che non può essere perdonato perché è proprio dire vogliamo restare ciechi quindi è un peccato difficile da farsi bisogna essere ciechi e bisogna essere soprattutto degli spioni per vocazione e padre vorrei sapere da lei se è possibile avere una chiarificazione dell'identificazione della parola Spirito che lei ha usato nel corso di tutta la dissertazione intendendo una serie di termini che o si auto escludono oppure l'uno fa riferimento all'altro alcuni lei li ha usati partendo dal greco e poi passando al latino eccetera non so è qualcosa che si avvicina al discorso che intende il greco con Pneuma è qualcosa che si avvicina di più al discorso che il greco intende con animos cosa che non credo o forse li comprende ambei due e passando al latino c'è una parola diciamo che si avvicina ulteriormente con maggiore efficacia chiarezza capacità di totalizzare questo concetto che di per sé è sempre stato molto difficile e si presta anche a dei dubbi a delle incertezze diciamo a una incapacità da parte nostra per lo meno mio di identificarlo con qualcosa che si è più vicino di preciso a cui si possa dare una parola interpretativa come dire chiara un pochino più vicino a noi la ringrazio ma dovete pensare che la Bibbia viene scritta nell'arco di mille anni più c'è il Nuovo Testamento che dobbiamo aggiungere altri cento è chiaro che su un arco di tempo così anche i termini mutano il valore semantico del significato che contengono non sono sempre fissi per cui è chiaro che nell'antichità forse più estrema la ruach era il vento galiardo che spaventava come la tempesta né più né meno e si diceva quello è la tempesta del Signore la tempesta di Dio in certi salmi certamente abbiamo la sensazione che sono ancora anche salmi che possono avere delle tracce pagane in cui il Dio del vento il Dio della tempesta scatena il temporale fa vedere la sua forza come ad esempio il salmo ventotto ma all'interno della scrittura poi c'è una certa coerenza non arriva mai ad essere un termine preciso perché uscilla sempre è vento è soffio è sospiro è alito pensate solo in italiano noi abbiamo tantissime parole in ebraico a ruach e basta in greco anche pneuma è certamente una possibilità in latino sarei dire si è si è anche più rattrappito però quella profondità che dà la Bibbia di dire che è qualcosa che trascende il vento l'alito che è solo la Bibbia e che invece né in greco né in ebraico c'è se voi volete in greco qualche volta c'è il termine però non vi scandalizzi nessuno capitolo è il termine demon dove si dice che il demonio non è il demonio negativo ma segui il tuo demonio quando ci sono queste sentenze segui questa forza che è in te che vuol dire segui la tua vocazione segui quel che ti dice il tuo interno segui quella che è la tua ispirazione vedete quante possibilità ci muoviamo certamente la Bibbia dà questo significato di trascendenza che va oltre una delle cose che ho tralasciato perché vedevo che il tempo si accorciava secondo i termini che mi è concesso e quando vi ho detto che il contrario dello spirito è la guerra e lì ci sarebbe da soffermarsi molto soprattutto in questo momento in cui siamo in una vigilia di guerra credo che ne siete coscienti che siamo in una vigilia di guerra perché è proprio l'Occidente cui apparteniamo la vuole e in questi giorni alcune potenze della Nato hanno chiesto, lo sapete, agli Stati Uniti di poter usare le armi che raggiungano il territorio sovietico e l'altra è la terza guerra mondiale quella che Papa Francesco dice che combattiamo già a pezzi ma questo è in atto perché vedete perché gli uomini sono sedotti dalla guerra guardate che la guerra esercita una seduzione soprattutto nei popoli che la fanno fare agli altri non sono mai i popoli che vanno in guerra che i quali a un certo punto sono sedotti dalla guerra ma quelli che riescono a farla fare gli altri e loro non la fanno sono sedotti perché sanno che nel fare la guerra aumentano le possibilità di investimento in fabbriche di armi e ci guadagnano finanziariamente molte volte e subito dopo ci guadagnano per la ricostruzione ma non fanno la guerra loro e noi oggi siamo in questa situazione di seduzione lo spirito è davvero l'antidoto lo spirito come vede la Bibbia alla guerra c'è un testo che io non ho letto ma che ve lo leggo adesso se mi permettete perché è veramente troppo importante su questo tema l'ho segnato e poi ho detto no troppo troppo dice questo testo di Isaia l'azione dello Spirito Santo sarà far tacere le guerre lo spirito deve spegnere la guerra perché dove c'è lo spirito il deserto deve diventare un giardino nel deserto deve prendere dimora il diritto e la giustizia si deve praticare la giustizia e allora ci sarà pace cioè vita piena si realizzerà l'ugualianza e la tranquillità e lo spirito sconfiggerà la guerra per sempre questo è lo spirito santo questo è lo spirito è il grande nemico della guerra ma oggi siamo in una situazione che non si ascolta lo spirito e lo si deprime perché si è tutti incantati credete e mi rincresce e ci rivedremo speriamo che ci sia saggezza ma questa vigilia di guerra che viviamo è una vigilia drammatica in cui è difficile indignarsi tutti misurano l'impotenza in cui vedete la gente non crede più nell'impotenza in cui è di poter fermarla o fare qualcosa ma questo significherà una situazione ben difficile per la generazione futura noi anziani certo ce ne andiamo ma pensate ai vostri figli ai vostri nipoti perché se la terra sarà desolata come dicevano tanti autori tanti come penso a un poeta come Iliot visionario che la intravedeva per questo scontro che non cessa di avvenire e che vuole assolutamente la morte noi siamo sedotti dalla morte ricordatevi e fate di tutto per combattere la guerra e la morte che farete la battaglia dallo spirito santo grazie 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 ancora per questa bellissima lezione grazie 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 arrivederci speriamo che non ci sia la guerra e speriamo di avere una vita un po' più piena di vita e un po' più serena grazie a tutti grazie 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 a tutti